Un'enorme tragedia è accaduta a Lampedusa, qual è il suo commento di chi è la colpa? Le colpe sono abbastanza diffuse, prima di tutto bisogna rendersi conto della dimensione umana di ciò che è accaduto oggi, ma non solo oggi, anche nei mesi passati. Io non ho parlato di colpi, ho parlato di responsabilità, soprattutto da un punto di vista morale, di chi continua in maniera assolutamente scellerata a dare segnali contrarie a quelli che sono la legalità, il buonsenso e anche la salvaguardia delle vite umane. Perché se si continua a far passare il messaggio come il ministro Chienghe, il ministro della disintegrazione sociale Chienghe o la presidente Boldrini, che si può venire in Italia in violazione di qualsiasi legge, tanto poi tutti i santi aiutano, in realtà poi i santi purtroppo queste persone le incontrano per altri motivi. E quindi abbiamo, senza usare l'ipocrisia che invece è tipica di altre formazioni politiche, detto le cose come stanno, cioè c'è una responsabilità morale di parte di queste persone per continuare a mandare dei messaggi pericolosi di poter venire in quadro, cioè che si riescono a attraversare questo canale, che si riescono a sopravvivere a questi viaggi della morte, poi qua c'è il Bengodi, qua non c'è il Bengodi, assolutamente. Non abbiamo risorse per poterli sostenere, non abbiamo strumenti, politiche migratorie devono essere gestite in maniera diversa, purtroppo l'Italia è sempre stata lasciata sola. L'unico momento in cui questi viaggi della morte si sono fermati è quando il ministro Maroni, quando era ministro dell'interno, aveva attivato questi accordi bilaterali, aveva attivato queste procedure di pattugliamento delle coste di partenza di questi viaggi della morte e lì il numero di morti era praticamente sceso a zero e anche il numero degli sbarchi era sostanzialmente calato del 99%, magari qualcosa scappava, però si era data una risposta concreta. Tant'è che saggiamente, non a caso, lo stesso presidente napolitano, al quale va riconosciuto rispetto a tutti gli altri invece la capacità di non cadere nell'ipocrisia, ha giustamente richiamato quel tipo di esperienza, oggi richiamato quel tipo di esperienza dicendo che vanno ripristinati, finalmente, cioè ha certificato che la Lega è stata l'unica, attraverso il ministro Maroni, a dare una risposta concreta contro la clandestinità e contro questi viaggi della morte. Mi pare quindi che lei faccia un invito al ministro Alfano a emulare l'operato di Maroni. Sì, a svegliarsi soprattutto, anche perché io ho parlato di responsabilità morali, di queste anime belle che parlano a Vanvera e in maniera pericolosa a potenziali viaggiatori clandestini su queste carrette, ma c'è anche una responsabilità politica che viene da Monti prima, ma ormai è inutile sparare sulla Croce Rossa, viene da Letta e viene da Alfano che pur avendo un modello già funzionante non l'ha voluto applicare. Ci vuole pochissimo perché tutto è già predisposto, le procedure sono già state erodate, si sa benissimo, gli strumenti e le attrezzature anche in loco ci sono già, il personale è stato formato durante quegli anni di esperienza del ministro Maroni e quindi si tratta solo di girare la chiave, accendere la macchina e far partire finalmente un sistema serio di controllo della partenza degli sbarchi, perché andarli a prendere, aspettare che arrivino in mezzo al mare e andarli a prendere e far vedere che noi siamo caritatevoli non serve a loro, non serve a noi e comunque nel mezzo di questa traversata ci sarà sempre il rischio che qualcuno muoia. Invece noi li vogliamo aiutare a casa loro perché questa è la vera pietas cristiana, non quella pelosa di gente come la Boldrini o la King che non capiscono assolutamente nulla di come si deve gestire questa roba oppure lo capiscono ma per altri interessi.